se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video voglio iniziare ragazzi questo video facendovi vedere finalmente che oggi spawnerà l'ufo quello diverso, unico fra tanti ragazzi, quello nero che ci spawna anche facendo tot miliardi di missioni da recupero del bunker ragazzi quindi fateci una foto e ditemi cosa ne pensate, lasciate un like, lasciate un commento e possiamo iniziare con il video bentornati ragazzi, qua è Savix che vi parla in questo nuovo video e ben arrivati per chi è nuovo del canale oggi glitch bomba ragazzi, aumentiamo le capacità del nostro inventario i giubbotti antiproiettili saranno 10 ragazzi, voi lo sapete che più di 10 non ne possiamo prendere con questo glitch ragazzi doppiamo la capacità quindi potremo avere 20 giubbotti antiproiettili iniziamo con il glitch, andiamo da ammunition e compriamo 10 giubbotti ragazzi di quelli pesanti non super pesante mi raccomando, quelli pesanti fondamentale come requisito diciamo raga dovete avere il super pesante a zero come ben vedete io ho zero nel super pesante e ho comprato ora 10 nel giubbotto pesante a questo punto chiamiamo il nostro amico Franklin che per fare la popstar l'abbiamo stressato tutti adesso ci servirà per aumentare la capacità dei nostri giubbotti antiproiettili quindi facciamo richiedi rifornimenti ragazzi che è l'ultima voce, costa 5000 dopodiché aspettiamo che sulla mappa ci spawni uno zainetto come vi faccio vedere adesso che zoomo, quindi richiamoci proprio da questo zainetto e una volta che siamo lì ragazzi dovremo andarlo a raccogliere, questo zainetto ci darà la possibilità di avere 10 giubbotti super pesante la vita e munizioni ragazzi, ditemi cosa ne pensate, lasciate un like se vi è piaciuto il video ora vi faccio vedere che aprendo il menu in tirazione, non avrò 10 giubbotti ma ne avrò 20 ragazzi quindi io vi lascio e alla prossima, bella regà e spada bam non ne non ne Is it what I don't need?